Benvenuti to the Made in Italy podcast. In questa puntata parliamo con un avvocato italiano che abita a San Francisco per imparare come si può fondare un business in America. Benvenuti to the Made in Italy podcast. Ciao Marco, benvenuto to the Made in Italy podcast. Come stai? Bene Stefano, grazie. E tu? Benissimo, raccontaci un po' da dove vieni in Italia, come sei finito a San Francisco. Sì, io vengo da Napoli e sono venuto qui a San Francisco a novembre 2007, quindi sono 13 anni più o meno che sono qui e sono venuto qui perché la ragione principale è che mia moglie è americana, ci siamo conosciuti in Italia, per un po' abbiamo vissuto a Napoli ma poi lei voleva tornare qui e io mi sentivo pronto, diciamo, per una nuova avventura, diciamo così, quindi ho deciso di lasciare tutto a Napoli dove già ero avvocato da quasi vent'anni e non è venire qui. Io anch'io ho vissuto, mia madre è di Genova, ho vissuto tanto tempo in Italia, però io sono nato qui in America. e il motivo che ti ho chiesto di venire sul podcast, ho tanti amici in Italia, mi chiedono sempre se vorrei investire dei soldi o vorrei venire in America, come faccio? Cioè la prima questione è come, dall'Italia, come puoi venire qua a viverci? Come sono i modi? Allora, i modi per venire a vivere qui negli Stati Uniti, diciamo in maniera regolare, quindi con documenti, con assistenza sanitaria e tutto il resto, sono molto complicati, anzitutto faccio questa premessa, sono molto complicati, l'amministrazione Trump li ha resi ancora più complicati e quindi vediamo ora che succede con questa nuova amministrazione. I modi sono, diciamo si possono dividere in due categorie fondamentali, o venire qui per motivi di lavoro o di business o venire qui per motivi di famiglia, naturalmente per motivi di famiglia bisogna avere un parente che è o cittadino o residente americano e quindi quello lo lasciamo da parte per il momento. Venire qui per motivi di lavoro o per investimento, che raggruppiamo sotto la stessa categoria, è estremamente complicato. In buona sostanza venire per motivi di lavoro e quindi ottenere un visto di lavoro, per fare questo occorre già avere un'offerta di lavoro prima di partire dall'Italia. E quindi naturalmente questo è molto complicato perché la cosa che invece naturalmente dovrebbe avvenire è che si va in un paese, si cerca lavoro e poi quando si cerca lavoro ci si regolarizza, diciamo così, ma questo non è permesso qui. Quindi la prima considerazione fondamentale che si deve fare è che io vedo qui nel mio lavoro ogni giorno, mi chiamano italiani o anche altri clienti che sono venuti qui in esta con visto turistico e mi dicono poi sono stato in esta, poi ho trovato lavoro e ora voglio fare il visto. Non si può fare da qui. Quando si viene in esta o per motivi di turismo non si può poi convertire questa situazione in un visto di lavoro. Quindi il visto di lavoro è molto complicato per lavoratori molto specializzati e deve essere fatto, ripeto, avendo già un'offerta di lavoro quando si è in Italia. Ok. Invece di, se vuoi, in modi business, se vuoi investire, come? Allora, l'investimento, sì, il visto da investitore, che si chiama qui il visto E2, è un visto diciamo fino a pochi anni fa abbastanza accessibile, nel senso che chiunque voglia in Italia, dall'Italia diciamo avviare una nuova azienda qui negli Stati Uniti, purché investa una somma, come dice la legge, sostanziale, a substantial amount, quindi un ammontare che non è definito precisamente dalla legge, ma l'immigration deve considerarlo come sostanziale, adeguato e proporzionato rispetto al tipo di attività che l'investitore intende avviare qui sul territorio degli Stati Uniti. Quindi noi per esperienza, noi avvocati di diritto all'immigrazione, sappiamo che perlomeno 100 mila dollari bisogna investirli. Poi dipende naturalmente, come dicevo prima, dal tipo di attività che si vuole avviare. Quindi se si dimostra che c'è questa disponibilità, se si dimostra che questi fondi sono già parzialmente investiti, e poi spiegherò che cosa significa, è possibile accedere a questo tipo di visto, che è un visto che può essere rinnovato indefinitamente, quindi anche per tutta la vita, finché dura l'attività nella quale si è investito. E ci sono dei tipi di business che è più facile a prendere questa vista? Beh, i tipi di business, ti dico per la mia esperienza, molti clienti italiani che ho investono, diciamo, gli italiani investono per lo più nel mercato della ristorazione, nella mia esperienza, o comunque in ciò che è legato alla gastronomia, al vino, ai prodotti di nicchia, e poi bisogna fare un discorso diverso per l'import-export. Però, perlomeno fra i miei clienti, ne ho avuti moltissimi che hanno investito in ristoranti, in nuove attività, o, ti ripeto, attività di gastronomia di alto livello, e non abbiamo mai avuto problemi a ottenere i visti in queste categorie, purché, ripeto, l'investimento sia adeguato. Ora, che cosa significa che sia adeguato? E soprattutto che cosa significa che sia credibile? Perché un altro dei requisiti è che l'immigration vuole che questo investimento sia credibile. Quando si fa una pratica di questo tipo, la persona deve avere già acquisito, per esempio, dei locali, e quindi deve avere un contratto di fitto di locali che sono adeguati al tipo di attività che si deve fare. Ci deve essere un ufficio, ci devono essere dei locali, ci deve essere la costituzione di una società, che è una cosa piuttosto semplice negli Stati Uniti rispetto alla burocrazia italiana, e qui le pratiche per avviare una società sono molto semplificate. La società deve avere un conto in banca, su questo conto in banca devono essere già depositati i fondi da investire o parzialmente già investiti. Qui tutto questo dà l'idea di un business che, se non è proprio già avviato, comunque è un business credibile, è un'attività reale, non è solo uno schermo per avere il visto, per ottenere il visto. Altri tipi di attività sono naturalmente tutte le attività di tipo informatico, ho avuto molti clienti che hanno aperto società qui, nella Silicon Valley, di questo tipo. Ripeto, il visto da investitore non è difficile da ottenere, ed è anche relativamente veloce rispetto agli altri tipi di visto, purché, ripeto, l'attività sia reale e purché l'investimento sia adeguato e proporzionato rispetto al tipo di attività che si vuole avviare. E invece altri stati? Ci sono stati più facili? Se vorrei iniziare un business in Idaho, è più facile che in California? Cambia il discorso con il Stato? Il discorso non cambia molto con lo Stato perché l'immigration è in materia federale, e quindi è il governo federale che aggiudica tutte le varie application. Quello che cambia rispetto allo Stato, o meglio, rispetto all'attività dove è localizzata l'attività, può essere, diciamo, la proporzionalità dell'investimento. Cioè, naturalmente, avviare un'attività qui nella Bay Area a San Francisco, che è diventato uno dei luoghi più cari del pianeta, costa di più. E quindi se l'investimento, che per esempio farlo in Montana, o in Wyoming, o in Idaho, e quindi l'investimento richiesto per avviare un'attività qui a San Francisco, nella Bay Area, può essere maggiore rispetto all'investimento richiesto per la stessa attività in uno Stato dove, naturalmente, i costi sono più bassi. Però, per sé, diciamo, la questione di dove è localizzata l'attività è abbastanza indifferente, ripeto, perché l'immigration è una materia di competenza federale, quindi non di competenza statale. Gli Stati non hanno nessun potere, nessuna autorità in materia di immigrazione. Naturalmente, poi ci sono le considerazioni da farsi dal punto di vista delle tasse. Ora, io non sono un accountant, non sono un CPA, cioè un Certified Public Accountant, però, naturalmente, dove costituire la società, e cioè l'entità formale che poi gestisce il business, può essere rilevante dal punto di vista delle tasse. Molti la costituiscono in Nevada o in Delaware, perché questi due Stati hanno delle legislazioni tributarie più di favore per le società. Interessante. E diciamo che prendi questa vista per iniziare un business qua a San Francisco, vuol dire che ci puoi anche viverci, cioè quanto tempo dura una cosa del genere, cioè ci puoi stare, cioè cambia. Allora, naturalmente, se tu ottieni un visto da investitore, un visto E2, il visto ti dà non soltanto la possibilità di avere, di essere proprietario di questa attività, ma ti dà la possibilità di vivere qui negli Stati Uniti per tutto il tempo in cui, durante il quale, questa attività continua ad esistere e continua a soddisfare i requisiti delle due. Il visto E2 è uno dei, forse è l'unico visto, che può essere rinnovato indefinitamente, cioè anche per tutta la vita, purché, ripeto, l'attività commerciale, economica, che ha dato origine alle due, continui a sussistere. E' anche un visto, e qua devo introdurre, diciamo, una differenziazione che sarà difficile capire per chi non ha a che fare con l'immigration degli Stati Uniti. E2 è un non-immigrant visa, c'è una differenza fra non-immigrant visas e immigrant visas, che è una differenza difficile da spiegare, ma in buona sostanza E2, nonostante possa essere rinnovato indefinitamente, anche per tutta la vita, deve presupporre che ci sia un'intenzione, a un certo punto, di tornare al proprio paese. E2 è un non-immigrant. Per esempio, faccio un esempio diverso. L'H1B, che è il visto di lavoro più comune per lavoratori molto specializzati, è un visto che ammette dual intent, cioè anche immigrant intent. Quindi chi è in H1B, a un certo punto, può anche diventare residente, può fare un'application per la green card e diventare residente. Chi è in E2, invece, non può, anche se può rimanere in E2 per tutta la vita. È una contraddizione, ma il sistema è questo, naturalmente ha le sue contraddizioni interne. Va bene, Marco, sei stato molto gentile, mi hai risposto a tutte le domande e in più, ti ringrazio. Figurati, è stato un piacere. E i miei listeners, dove ti possono trovare? Dove vuoi, se ti vogliono contattare, dove ti possono contattare? Mi possono contattare, naturalmente c'è il mio sito, basta digitare il mio nome su Google e dovrebbe venire fuori. O possono trovarmi su un paio di Facebook groups, c'è il gruppo su Facebook di Italiane San Francisco, dove io sono sempre presente e possono contattarmi, senz'altro lì. Va bene, Marco. Ti ringrazio di nuovo e buona giornata. Grazie a te, Stefano. Grazie a te, Stefano. Ciao, ciao. Spero che avete imparato qualcosa. Per contattarmi, scrivami un'email at themadeinitalypodcast at gmail.com e ci sentiamo alla prossima. Grazie. Grazie a te, Stefano.